Circa 80-90 euro al mese, 3-4 euro al giorno. Vediamo il modo più semplice per fare mining a casa tua, con il tuo PC, il tuo notebook, sfruttando la tua GPU o la tua CPU, o addirittura entrambe. Ciao ragazzi, io sono Polvo e su questo canale di solito parlo di cripto, di NFT, di play to earn e di finanza personale. Bene, eccoci sul browser, siamo su criptex.org, andiamo appunto a parlare di criptex, il software più semplice in assoluto per andare a minare su qualsiasi dispositivo che sia un computer notebook. Ma andiamo subito al punto, la prima cosa da fare è andare a cliccare questo bel bottoncino blu e andare a scaricare il nostro software. Mentre scarica il software ci aprirà questa pagina per andare a registrare il nostro account, perché criptex ha bisogno di un account, ovviamente soprattutto per andare poi dopo a fare i pagamenti. Molto semplice, non c'è bisogno di identificazioni strane, dati personali, basta inserire una mail e una password e andare a consentire i termini e condizioni. Io ovviamente ho già un account, vado a loggarmi con il mio account e accedo alla mia dashboard, ok, dove potete già iniziare a vedere che ho dei 2 dollari e 27 da poter andare a ritirare. Ora rimanendo sulla nostra dashboard vado a cliccare sull'exe che ho appena scaricato per andare a installare il programma. Se non lo trovate qua in basso, lo troverete nella cartella download o dove andate a salvare appunto i vostri file. Andiamo ad avviare il programma di installazione. Fate pausa, mettete pausa fino alla pausa manuale e andate sulla rotellina di impostazioni. A questo punto attivate la modalità pro, vai a modalità pro, attivata la modalità pro potete andare a fare esegui il test. Io ho qua un riesegui perché ovviamente ha già preso le impostazioni del mio account ma fate esegui il test di velocità. In questo modo il software andrà a valutare in base al vostro computer se ha una GPU dedicata, se ha solo la CPU, insomma in base a quello che è il vostro hardware andrà a valutare il miglior algoritmo da andare a utilizzare per farvi minare al meglio. Una volta che il test è finito avrete già spuntati qua solo gli algoritmi che appunto potranno essere minati con il vostro hardware e che faranno avere più profitto. A questo punto andiamo a vedere dei punti fondamentali. Andare a valutare cosa c'è qua a destra della GPU cioè temperatura, vattaggio, velocità delle ventole e utilizzo. Questi sono dati importantissimi. Io vi consiglio di tenere la temperatura sotto i 70 gradi di andare a valutare il vattaggio massimo che andate a utilizzare per capire qual è il vostro guadagno netto quindi al netto delle spese di corrente e di tenere le ventole alla velocità che vi permette di stare sotto i 70 gradi. Ovviamente l'utilizzo deve essere al 99%. Come facciamo a fare questo? Andiamo ad utilizzare un programma che si chiama MSI Afterburn e andiamo sulla dashboard per capire come. Vedete che qua a sinistra abbiamo archivio overclocking. Se io ci clicco ho la possibilità di andare a cercare la mia GPU vi troverà una serie di archivi di overclocking che voi andate appunto a valutare in base al rate. state attenti a vedere che sui dettagli la GPU sia la vostra perché ci sono tante 1080 Ti e non è detto che sia identica a una di queste e andate e provate magari a fare un minimo di overclocking seguendo questi archivi di overclocking. Ovviamente dove c'è un rate del 100% sappiate che questi sono tutti overclocking testati e approvati da altre persone quindi è probabile che non vi creano né danni e che vi permettono di avere la vostra GPU stabile. Sul sito principale di Cryptex abbiamo altre risorse importanti come per esempio la calcolatrice di mining che ci permette di andare a fare un calcolo prima di iniziare ad avviare il miner per capire quali potrebbero essere il nostro profitto. Io nel mio caso specifico ho una 1080 Ti e pago, adesso metto a caso, 30 centesimi anzi facciamo 40 centesimi di dollaro al kilowattora. Se faccio calcola lui mi fa un calcolo in base al mio hardware in base a quello che è il guadagno lordo e a quello che è il guadagno netto mettendomi ovviamente in ordine di criptovaluta la criptovaluta che per me è più conveniente ma questo ovviamente il software ce l'ha già fatto quando ci ha fatto il test di velocità. Abbiamo visto che bisogna monitorare i dati che troviamo qua a destra della GPU abbiamo visto che abbiamo un archivio di overclocking abbiamo anche la possibilità di capire quanto si può guadagnare in base al nostro hardware sappiamo che una volta avviato il software che io adesso non avvio perché se no mi si pianta la registrazione possiamo andare a minare non solo con la GPU come faccio io, come ho fatto io che avete visto con una 1080 Ti che è una scheda comunque vecchiotta si fanno dagli 85 ai 90 euro mensili si può anche utilizzare entrambi vi consiglio ovviamente di farlo se non state al PC se non state utilizzando il PC quindi di avviare sia la CPU che la GPU entrambe ovviamente riuscirete a guadagnare 2, 3, 4 euro in più perché mi raccomando vedete sulla dashboard qua a sinistra avete tante altre cose molto interessanti per esempio una classifica delle migliori GPU per andare a minare oltre che l'archivio di overclocking idee, profilo eccetera eccetera io vi lascio il link in descrizione perché c'è anche un piccolo programma di affiliati che permette di prendere una piccolissima percentuale dal mining degli altri quindi se volete aiutarmi e supportarmi vi lascio il link in descrizione per andare a scaricare appunto Cryptex dal mio link in questo modo riuscite a darmi una piccola somma poi magari faremo un video per vedere effettivamente quanto posso guadagnare dai vostri, dal vostro mining ma arriviamo al punto focale come si ritirano i nostri soldi allora anche su questo Cryptex è una figata perché ci permette di ritirare i nostri soldi in vario modo se io vado su richiedi un pagamento potete vedere che c'è una serie di infinita di tipologie di pagamento Bitcoin ed Ethereum sarebbero comodi l'unica pecca di questi due metodi di pagamento è che hanno una fee diciamo chiamiamola abbastanza alta nel senso che ogni volta che vado a fare un prelievo in Bitcoin o in Ethereum devo pagare rispettivamente Bitcoin 12 dollari ed Ethereum circa 23 dollari quindi questi due metodi qua ovviamente vanno presi in considerazione se abbiamo una buona mole di mining quindi abbiamo un bel guadagno mensile ma anche in quel caso andare a buttare dai 10 ai 30 dollari non mi sembra il caso visto che ci mettono anche a disposizione altri tipi di pagamenti per esempio per quanto riguarda la parte euro potete farvi il pagamento direttamente su Visa Mastercard ok l'importo minimo però deve essere di 7 euro se no quello che vi consiglio io è di crearvi un account ADV Cash anche in questo caso vi lascio un link in descrizione secondo me per quanto riguarda i pagamenti in euro è la cosa migliore avete 0,03 centesimi da andare a pagare vi faccio vedere anche come si fa su Advanced Cash perché è veramente semplicissimo vi create un account vi lascio il link in descrizione per crearvi un account è veramente anche qua molto semplice email, password e andate a confermare l'email di registrazione qua sulla sinistra avete wallet vedete che c'è un codice di wallet euro potete fare copia andare a incollare il vostro portafoglio e a fare richiedi pagamento una volta cliccato conferma pagamento dovete andare sulla vostra mail andare a cliccare il link di conferma per quanto riguarda il pagamento e vi troverete nella cronologia dei pagamenti lo stato del pagamento in sé ed ecco mentre che lo stavo dicendo vedete che il pagamento adesso a questo punto risulta completato vado a vedere sul mio ADV Cash vado a fare una ricarica e vedete che ho i miei 1,73 euro ricevuti direttamente sul mio ADV Cash detto questo spero che questo video vi sia piaciuto che questo metodo sia il metodo veramente più semplice per voi per minare se vi piacciono questi tipi di video avete bisogno, volete trovare altri miner volete chiedermi specificatamente una moneta da minare scrivetemelo qua sotto nei commenti mi raccomando condivisione mi piace e al prossimo video ciao 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 ciao